Del rammarico ce n'è come tutte le partite 3 a 2 Lo diciamo adesso perché abbiamo perso 3 a 2 Magari avessimo perso 3 a 0 Saremmo stati grati se fossimo andata così Adesso mi sono un po' incasinato C'è il rammarico soprattutto per il secondo set Perché dopo aver recuperato siamo andati sotto in un giro di battuta non trascendentale Poi dopo secondo me loro un pochettino sono calati Noi siamo cresciuti come intensità di gioco Poi questo tie break è stato condizionato anche dai cambi Abbiamo preso un punto, non è male Però adesso vediamo quello che è successo a Slati Perché dopo, lo vedete, i cambi che si fanno da una parte all'altra Sono stati ovviamente diversi E quindi è importante essere tutti Adesso non qualcuno si è fatto Adesso vediamo No, ho visto che si è toccato qua Poi dopo ha voluto provare per il tie break Ma al primo attacco ho visto che si è ritoccato forte Grazie 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 Grazie